Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano, puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me. Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram, onemoretimepodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso un link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Ho visto, ho sentito ieri, ammetto non ti conoscete, ho sentito l'intervista agghiacciato. La tua persona agghiacciata. Quindi avrei sentito il conflitto della merda entrambi. Tra le volte sei caduto e tra le volte ti sei realizzato. Dalla Belen fino al YouTube. Bravo, bello. Bene, grazie mille. Essendo io in prima persona molto fragile, sensibile e timido, quando io dovevo entrare in un negozio di no gioielleria che ero più giovane, non ci entravo perché mi sentivo guardato dall'alto verso il basso. Ed è quello che io non voglio fare, non voglio lanciare un messaggio ai giovani che chi si può permettere un determinato prodotto se lo può permettere solo, se magari è pieno di soldi, io penso che bisogna dare a tutti la possibilità di poterlo comprare. Vuoi comprare l'orate? Io ti do la possibilità di comprare l'orate. Ho fatto per un breve periodo di tempo finanziamenti. Vendevo dal commesso delle poste fino al quadro dirigente. Ho cercato di avere una clientela il più mista possibile. E ho visto che questo tipo di strategia, che è proprio il mio modo di approcciare con le persone, umano, funziona. Allora, ci facciamo un viaggio introspettivo della tua vita. Tra l'altro, noi ci siamo mancati l'anno scorso. Perché noi ti abbiamo cercato, non ci siamo intercettati. Poi quando tu ci hai iscritto, purtroppo avevamo finito la sessione. Me l'hanno detto, infatti. E nel frattempo ci hanno preceduto altri, perché sei andato a raccontare la tua storia altrove. Faccio questa premessa, perché avevo già piacere di averti, e quindi volevo dire che, anche se tu hai raccontato molto della linea della vita a Gurulandia, che tra l'altro è un podcast che guardo sempre con piacere, visto che hai già raccontato tanto, oggi mi spiace alcune cose, te le faccio ripercorrere obbligatoriamente. Sì, le ripeterò. Spero di non essere ripetitivo. Era solo per dirti che vorrei entrare molto nelle emozioni. Cioè, come hai vissuto i vari passaggi che hai raccontato, che magari oggi ne racconterai più diversi di altri, non lo so. Cosa senti quando succede? Dove trovi la forza per ripartire? Ok, ok. Non è facile, nel senso che devo scavare in profondità. Non sono bravo a raccontare soprattutto cronologicamente il mio vissuto ed esternarlo, ma ci provo nel modo più facile, come mi guiderai possibile. Cercherò di essere un buon compagno di viaggio. Allora, per facilitare la cronologia, partiamo dalla nascita. Nascita. In che anno nasci e in che contesto familiare? Allora, nasco nel 1978, quindi ho 45 anni. Diciamo che io sono frutto di una vita di stenti e sofferenze. Parlo a metà vita, nel senso che nasco da una famiglia benestante. Quindi, un papà, una mamma, sette fratelli e vivevamo tutti in un contesto molto agiato, no? Tutti maschi fratelli? Una sola sorella, che poi ti andrò a raccontare anche questo aneddoto. Mio papà aveva un'azienda di automazione pneumatica, era sposato con mia mamma. In questa relazione sono usciti otto figli, da questo qua, più altri due, che non sono frutto della relazione di mia mamma con mio papà, ma sono frutto di una relazione di un'altra donna con mio papà. Successiva. No, precedente. Precedente, quindi sono i più grandi. Ok. Allora, ho un gemello, tale e quale a me, identico. Tant'è che, pensa che oggi lo fermano, no? Pensando che... Bella Lorenzo, facciamoci la foto. Pensando che sia io. E io sono il settimo, insieme al mio gemello, di otto fratelli. Come si chiama il tuo gemello? Andrea. Andrea. Con cui ho, un po' che non lo sento, ma è il fratello con cui ho rapporti. Con tutti gli altri, ad oggi non ho più rapporti, nessun tipo di rapporto. Ok. Poi ci arriviamo. Va bene. Quindi, famiglia giata, i tuoi genitori stanno bene, tuo papà ha un'azienda. Ha un'azienda, mio papà ha un'azienda, ho un mamma, papà. Mia mamma si ammala. All'ottavo figlio, allattamenti, tu muori alla mammella. Si ammala, muore, tu muori molto aggressivo. Una volta, non è come adesso, tu muori quando li diagnosticavi, che erano già grandi come un pisello, ormai era già troppo tardi. Muore nel giro di brevissimo tempo. A noi non viene, parliamo di 40 anni fa. Quanti anni avevi? Sei anni? Io avevo sei anni. Sei anni. A noi non viene comunicato niente, fino a un'età adolescenziale. Io ho sempre pensato che mia mamma fosse viva. Quindi mio papà, magari da un'altra donna, mi faceva fare delle chiamate, pensando che fosse il modo corretto di comportarsi, magari per evitare un grosso trauma. Invece il trauma poi te lo porti avanti successivamente. Ovviamente non do una colpa a mio padre, perché per quanto mi riguarda mio papà siamo tutti bravi a giudicare i comportamenti paterni, però lui l'ha fatto al fine di evitare un trauma, per cui tanto di cappello. Mia mamma muore. Veniamo cresciuti dalla nonna. Quando lo vieni a sapere che tua mamma non c'è realmente più? Io lo vengo a sapere, allora, l'ho sempre immaginato, io già lo sapevo, però me l'hanno comunicato ufficialmente all'età di 12-13 anni. Perché lo chiedevi spesso? Sì, certo. E a domanda diretta, la mamma è viva, cosa ti veniva a sapere? La mamma è in ospedale, per parecchi, parecchi anni. E tu dicevi, non possiamo andarla a trovare? Certo, no, non possiamo. Mi si negava sempre l'opportunità. Hai dei ricordi di tua mamma quando eri piccolino? Guarda, io mi ritengo fortunato, perché non ho ricordi. Ok. Zero. Ci rimuovi le cose che ti fanno soffrire? No, no, io non ho sofferto della mancanza di mia mamma. Zero. Proprio niente. Nel mio, razionalmente parlandone, ti posso dire che non ho sofferto. Poi magari nell'incoscio sì, però ti posso dire, razionalmente, assolutamente non ne ho sofferto. Mentre i miei fratelli più grandi ne hanno sofferto parecchio. Tanto. E loro sapevano la verità? Loro sapevano la verità. E non te ne ho mai detto niente? Nessuno. A te e a tuo fratello gemello? A me, il fratello gemello e il fratello più piccolo. Non ci hanno mai detto niente. Ok. E quando te lo dicono in modo... Te lo dicono, sto parlando al plurale, ma penso te lo dice tuo padre? Mio papà. A dodici anni che succede dentro di te in quel momento? Niente, nessun tipo di reazione. Nessuna emozione? Impassibile. Completamente impassibile. Ok. Ma perché? Perché non l'ho vissuta. Per cui per me mi dici che è morta una sconosciuta. Obiettivamente. So che è una frase... No, no, ma non ti eri abituato a quella figura. Non mi ero abituato a quella figura. Se mi avessi detto, è morta tua nonna? E lì avrai soffrato tantissimo. Perché io sono stato cresciuto, noi siamo stati cresciuti dalla nonna materna. Mia nonna si è occupata di dieci persone. Unica persona che si prendeva cura e ha cresciuto tutti noi, fratelli compresi. Cioè anche i due fratelli... No, no. Poi dopo lì ci arriviamo perché io l'ho conosciuto pochissimo tempo fa questi fratelli. Ok, va bene. Non sapevo neanche di averli. Non sapevi neanche di averli. No, l'ho saputo all'età, saputo, ma non l'ho mai cercato, all'età di 15 anni. Però non sono mai andato a cercarli. Poi successivamente è stato mio nipote che non conoscevo. Non l'ho mai conosciuto, ma ho trovato, pensate, su Instagram mi ha contattato, ti faccio conoscere, mia mamma che sarebbe tua sorella. E questo è successo sei mesi fa, per dirti com'è. Io grazie al podcast ho conosciuto mio cugino di primo grado. Ti rendi conto? Figlio della sorella di mio padre, è stato incredibile parlare di tutte quelle... Si parla di tanti trascorsi di vita che accomunano delle figure che ci hanno cresciuto. Però francamente, prima di conoscerlo, io non sono mai andato a cercarlo. Non mi è mai importato. Per cui, bello che ci siamo visti, però... C'era una figura femminile dopo la scomparsa di tua mamma in casa vostra o c'è sempre stato tuo padre come unico riferimento? No, unico riferimento è stata mia nonna. Ok. Mio papà come riferimento, tra virgolette, a livello genitoriale, paterno, non ci è mai stato, ma io l'ho stimato fino al suo ultimo giorno e l'ho mirato per quello che lui è riuscito a fare e ha cercato. E' una frase che dico spesso, sembra una frase fatta ma non lo è. Un padre riesce a mantenere dieci figli. Dieci figli non riescono a mantenere un padre. Ma poi arrivo a questo perché noi ci siamo trovati nella situazione di provare a mantenere mio padre che era in mezzo a una strada, con l'azienda chiusa. Ma adesso tuo papà non c'è più? Morto. E quanti anni avevi quando è successo? Parliamo ormai di... Tredici anni fa circa. E quando invece è successo, come hai vissuto la cosa, visto che tuo padre ovviamente l'hai vissuto e sei stato abituato ad averlo vicino a te, anche se... Allora, io le morti dei miei cari non le ho mai vissute tragicamente. Sono sempre stato molto razionale verso questo tipo di evento. Non mi ha mai dato un effetto di disperazione. Certo, ne ho sofferto, perché è normale che ne soffri, però la vita va avanti. Però sempre in modo lucido, cioè emotivamente eri sotto controllo. Sì, sì, molto molto lucido. Ad oggi, ti dico la verità, se dovesse le persone più importanti della mia vita ad oggi, la persona più importante della mia vita ad oggi è mia moglie. Se dovesse venire a mancarci, penso spesso, mia moglie, allora a me mi creerebbe un danno a livello emotivo. Perché la persona con cui io ho passato più della metà della mia vita, tutti i giorni, è stata mia moglie, non è stata la mia famiglia. Per cui io sono legato a mia moglie, forse in modo... Viscerale. Viscerale, sì, sì. Da quanto tempo state insieme? 28 anni. Ritorniamo a te da piccolo, quindi a un certo punto dici, mio papà stava bene, aveva un'azienda, tutto funzionava, manteneva dieci figli, ma poi si sono invertite le cose. Che cosa succede? L'azienda, ricordo che avevamo 14-15 anni e tutti eravamo operai, operai tra virgolette, non facciamo un cazzo, diciamo la verità, nell'azienda di mio papà. Per cui io non sono mai stato abituato, io sono sempre stato mantenuto da mio papà, non sono mai stato abituato a lavorare. E nel momento stesso in cui l'azienda è fallita e ci siamo trovati tutti sfrattati fuori casa, io mi sono trovato in un mondo... Quanti anni avevi? Che non conoscevo, 20 anni. 18, dai 18-20 anni. Cioè quando succede quel momento hai 18-20 anni? Sì. Ma gli studi li porti a termine? No, 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 no. Io mi fermo alla terza media... E vai a lavorare. E vado subito... Cioè vai a lavorare con tuo padre? Sì, mio padre diceva, abbiamo bisogno di operai, venite tutti a lavorare, lasciate gli studi. E noi ci siamo messi tutti a lavorare nella sua azienda, che era la nostra azienda. Doveva essere il nostro futuro. Quindi ad un certo punto, quando hai 18-20 anni, avete un problema. Un grosso problema, perché ci troviamo tutti disorientati in un mondo che non conosciamo. Non ve ne aveva mai parlato prima? Succede dalla sera alla mattina? Allora, è successo abbastanza gradualmente, ma ti spiego. Fino che non ti succede a livello proprio materiale che ti prendono, ti buttano fuori di casa e ti mettono in mezzo a una strada, pensi mai che non ti accada, no? Nel senso che ha cominciato a non pagare più gli affitti di casa, ha cominciato a non pagare più gli affitti dell'azienda, ha cominciato a non pagare più i dipendenti, ed è stato tutto abbastanza graduale. Nel giro di due anni ci siamo trovati alle sei di mattina i carabinieri, che ci hanno cambiato la serratura, hanno preso i nostri effetti personali, quelle poche cose, perché poi è stato buttato via tutto, e ci hanno buttato tutti fuori di casa. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo avuto prima lo sfratto sull'appartamento e poi lo sfratto in azienda. Quindi ci siamo trovati tutti a dormire in azienda, letti tipo camerata e dormivamo tutti lì, finché poi ovviamente non c'è stato anche lo sfratto in azienda. E lì è stato un momento per me di grande sofferenza e difficoltà. Mi sono trovato, poi un breve periodo della mia vita, proprio per le molte vicissitudini che mi si sono configurate, è stata caratterizzata da un breve periodo di uso di sostanze. No? Da che età? Dai 20 anni fino ai 22, 23 anni. Poi ho visto che peggioravano soltanto la mia situazione e ho dato con molta difficoltà, attenzione, è facile entrarne, è molto difficile uscirne, no? Con molta difficoltà ho dato un taglionetto, taglionetto, sono stato, non ho mai ricorso a una cura. Cioè non sei mai dato al CERT, terapeuta, hai fatto da solo? Mai, 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 neanche ricoveri, mai. Ho fatto tutto da solo. Quindi penso sia frutto anche di una grande forza di volontà, perché non è facile. Io avevo un fratello che faceva uso di eroina, attenzione, quindi lì è stato, ripercorrendo questa parte della mia vita, lì è stato un periodo, io vedevo un mio fratello che faceva uso di eroina. Attenzione, l'eroina è una droga che ti porta ad essere agli occhi delle persone completamente ai margini della società. Quindi tu lo vedi uno che è fatto di eroina, mentre uno che è fatto di cocaina non lo vedi, no? E io avevo cominciato a fare uso di cocaina, sempre per, ripeto, per un breve periodo. E il fatto che la gente non se ne accorga ti porta a non avere un freno, perché nessuno lo vede. Per cui tu sei soggetto a questo uso continuo, nessuno ti ferma, mentre un eroenoma non lo vedi. Lo vedi che hai fatto? Capisci? Che tuo fratello si facesse di eroina, lo hai visto con i tuoi occhi? Eravamo ancora in una fase di benessere, no? Mia nonna trova dietro, è stato, diciamo, forse, penso per mio padre, un motivo di crollo emotivo. Trova una siringa dietro al calorifero e un limone. Dietro al calorifero, di fianco al letto di mio fratello. Allora chiede spiegazioni. No, no, no. Vabbè. Successivamente, nei periodi successivi, si rende conto che arrivava a casa la sera addormentato. Si addormentava con la testa nel piatto. Cominciavano a spregnire oggetti a casa. Quindi mio papà aveva una serie di gioielli, orologi, spregnato tutto. Ma dov'è? 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 E allora lì si sono resi conto, perché per un genitore è l'ultima cosa, l'ultima motivazione è che vai a cercare un figlio tossicodipendente di eroina. Per cui prima vagli altre ipotesi, altre possibilità. E invece era proprio quello. È durata per parecchio, parecchio tempo, parecchi anni. È sparito tutto da casa, bugie su bugie. E come ti dicevo, penso che mio papà abbia avuto proprio per questo figlio tossicodipendente un grande crollo. Non era più motivato ad andare avanti con il lavoro e tutto. Soprattutto mamma morta, figlio drogato. È stata una serie di cose. Devi avere anche la motivazione per andare avanti con l'azienda, per portare avanti un'azienda e mantenere dieci figli. Quindi, poi ne è uscito, per carità. Infatti stavo per chiederti come stava oggi, anche se non vi parlate. No, ad oggi, ti dico, è venuto a trovarmi in negozio, dopo dieci anni che non lo vedevo e non l'ho trovato male, devo dirti la cosa. Senza avvisarti è arrivato? Senza avvisarmi. Ti ha fatto piacere? Oddio, né sì né no. Nel senso, mi ha fatto piacere vederlo stare bene, quindi non più in un periodo di... Non lucido. Non lucidità, però ormai io, guarda, sono arrivato a un punto che guardo solo me stesso. Forse ti sembrerà egoista come ragionamento, però poi... Però se sei diventato cinico ci saranno delle motivazioni e ci arriveremo. Cocaina, quindi eravamo in quei due anni, visto che mi hai detto che dai venti in poi c'erano grandi problemi. Allora, io ho trovato... Perché tu hai detto non avevo il limite della gente che non se ne accorgeva, però c'è il limite anche del denaro. Sì, 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 ma ti spiego, io per un breve periodo ho trovato lavoro presso una pizzeria a domicilio. Quindi io consegnavo le pizze, mi davano 20-30 euro, andavo a spendere così. Capisci? Cosa ti dava la cocaina? Perché lo facevi? Allora, mi dava più sicurezza. Ok. Mi alterava magari qualsiasi sentimento, mi annientava, scusa, qualsiasi sentimento negativo. Ed è uno dei motivi per cui non è facile uscirne, attenzione. Perché ti sembra che ti dia un superpotere o almeno in quel momento. Sembra che ti dia un superpotere inizialmente, ma inizialmente sei tu che fai uso di cocaina, successivamente la cocaina che fa uso di te fino ad annientarti completamente e io sono molto orgoglioso pur avendone fatto uso per un breve periodo di esserne uscito da solo. Ti ricordi di un momento in quei due anni dove hai raschiato un po' il fondo, dove hai perso un po' la dignità? Sì, sì, sì. Ad esempio? Una sera è capitato di aver venduto un, era inverno, gli ho dato un giubbottino che avevo, che avevo addosso per prendermi una dose. Un giubbottino. E quello è stato uno di quei momenti che ho detto no basta, basta. Ti ha fatto reagire? Sì, parecchio. Ma in tutte le occasioni in cui tocchi il fondo, quando tocchi il fondo... Faccio queste domande proprio per arrivare lì perché molte persone dicono ma non riesco a reagire, ma a volte quando ti toccano la dignità... Io ho amici con cui, perché poi ovviamente questo tipo di vita ti porta a frequentare persone non belle, no? E io ho molti amici che sono rimasti sotto, hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, uno addirittura ha perso la vita, per cui ad oggi mi guardo indietro e sono molto orgoglioso. Tuo papà e tua nonna non notavano l'uso? No, no, assolutamente. Nessuno l'aveva mai capito? Nessuno. E non ti eri confidato neanche con il tuo gemello? No, assolutamente. Non l'hai neanche mai tirato in mezzo in quella cosa? Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Ok. Tua sorella, l'unica donna di casa, perché tuo padre è solo maschi, che... era difficile per lei che te la faceva? Era difficile. Cioè, era la vostra bambolina? No, lei in realtà... Bambolina vuol dire era coccolata? No, 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 no. Diciamo che aveva un carattere molto maschile. Stando con sette fratelli, gioco forza, ti porta ad assimilare comportamenti come noi, maschi. per cui non era neanche una ragazza facilissima, una ragazza molto fragile, purtroppo con molti problemi e questi problemi purtroppo l'hanno portata a perdere la vita in un modo che ancora ad oggi non mi è non c'è chiaro. Capisci? Quanti anni avevi quando è successo? Avevo 33 anni. E come se ne accorgono? Che le succede? Allora, io mi ricordo che ero in vacanza, ero a Genova in ferie con la mia attuale moglie e mi chiama mio fratello dicendo che è stato contattato dai vicini di casa che dicono che c'è odore di carne marcia fuori dalla porta di casa. E ha una settimana che era dentro in fase di decomposizione. Ma ti dico anche che io ho avuto lo spiacevole compito di dover riconoscere in obitorio il cadavere e ti dico che non mi ha suscitato non mi ha suscitato vedere il cadavere di mia sorella in quello stato lì. Per me non era mia sorella per cui era talmente decomposta che per me non era mia sorella per cui non mi ha neanche fatto impressione completamente decomposta. Non l'hai mai sognato quel momento dopo? Sì spesso mi accade ancora oggi è stata riconosciuta perché aveva più che altro una placca alla gamba e basta però non era riconoscibile come tale. Allora noi non abbiamo parlato molto della tua infanzia perché siamo entrati subito diciamo ma la ripercorriamo sono tutti periodi che poi ti portano a parlare di altro però andiamo per Sì io sono andato un po' sulla famiglia quindi il momento florido di tuo papà dalla tua nascita fino a diciamo l'età dei vent'anni e poi le cose cambiano vi porta tutti a lavorare in azienda con lui quindi vi ha chiesto lui di lasciare gli studi o l'avete deciso voi perché avevate la possibilità di guadagnare? No no ci ha chiesto lui di lasciare gli studi non è mai stato per farti un esempio lui non è mai venuto a parlare con i professori con i nostri maestri non se ne è mai occupato come non se ne è mai occupata mia nonna ma non per questo gliene do una colpa assolutamente vabbè tanto a cui pensare otto figli da crescere otto nipoti da crescere ovviamente fai tante cose non le fai fatte bene piuttosto che farne una e fatte bene per cui ha dovuto un po' spalmare le proprie energie per riuscire ad accontentare tutti tua nonna è ancora in vita? No morta anche lei ok quindi la tua famiglia è tua moglie la mia famiglia è solo mia moglie e i ragazzi che sono a casa con me basta non ho nessun altro ed è giusto che ad oggi sia la donna che ha goduto dei miei insuccessi e goda dei miei successi oggi l'unica donna adesso ci arriviamo ai successi i vostri ragazzi i vostri figli i nostri figli che si chiamano? Franco ed esi e hanno quanti anni? 5 e 16 anni ormai ah wow che bella differenza di età sì sì una bella differenza di età allora rientriamo un secondo nell'argomento tuo quindi che ragazzo eri? scuola che infanzia hai fatto? molto fragile molto emotivo mi facevo trascinare in situazioni non belle mi sono sempre stato molto timido emotivo io a scuola ero un bambino che piangeva sempre ok piangeva sempre per qualsiasi molto bullizzato tra l'altro no? ti racconto un piccolo aneddoto io e mio fratello gemello avevamo una compagnia in Porta Romana questa compagnia ovviamente noi eravamo gli sfigati quindi ci legavano all'albero botte un po' di tutto a un certo punto diciamo basta stacchiamoci da questa compagnia alla fine non sono amici ci prendono solo per il culo per non dire a mia nonna che non avevo amici mi vergognavo a dire che non avevo amici io la sera uscivo lo stesso andavo con mio fratello gemello a prendere la metropolitana mi facevo il capolina della metropolitana e alle 11 tornavo a casa come se avessi passato una serata come se avessi passato una serata con gli amici questo è andato avanti per un paio d'anni eh questo questo c'è il weekend facevi così tutti i weekend senza amici facevi da un capolina all'alto da un capolina all'alto con mio fratello e vi parlavate nel tragitto no no zero niente ci guardavamo basta guardavamo la gente passavamo il tempo e pensavi a come farti nuovi amici cioè non avevate amici non avevamo amici non avevamo amici zero ok e pensavi a come farti nuovi amici pensavo come come riuscire a a conoscere nuove persone nuove persone con cui riuscire nuovi amici ma io molto timido e ci siete riusciti poi allora successivamente sì sì bello questo allora io suono suono la chitarra no mi piace suonare adesso forse riprenderò che tipo di chitarra suoni sia classica che elettrica ok no allora i tempi c'era seconda mano me lo ricordo molto bene io ho cercato la mia prima segretaria su seconda mano sarebbe il subito di oggi il subito di oggi sì giusto quindi ho detto facciamo una roba cerchiamo qualcuno che sia disposto a formare una band che magari possiamo anche ah così ci creiamo le amicizie ok ci creiamo le amicizie ci creiamo il nostro giretto quindi lui è batterista io chitarrista autodidatti entrambi autodidatti sì ok troviamo un ragazzo che si chiama Maurizio che poi erano due sfigati come noi no? quindi ci troviamo sfigati nel senso che anche loro non era gente che usciva la sera con gli amici faceva la baldoria e ci troviamo alla domenica a suonare un batterista chitarrista bassista da lì creiamo la nostra compagnia con cui ti dirò io ad oggi ho ancora il suo numero ogni tanto ci sentiamo con queste persone qua e lì ci troviamo la nostra il nostro passatempo e la nostra compagnia io quando ho vissuto a Parigi sono nato lì ci ho vissuto 18 anni tra i miei più cari amici li ho rivisti proprio poco tempo fa c'erano due gemelli i mono zigoti come voi e sono ancora oggi che hanno la mia età quindi 46 uno dei due ha avuto una figlia e il padre è il padre biologico ma il gemello è come se fosse il secondo padre c'è nel senso la moglie del suo gemello è come se fosse la sua migliore amica è incredibile non possono stare staccati voglio capire come fate voi a staccarvi a un certo punto perché la vita vi ha sganciati l'uno dall'altro ma sai che è una domanda a cui faccio molta fatica a risponderti ok eravamo molto legati noi uscivamo facciamo qualsiasi cosa assieme poi il distacco per entrambi le parti c'è stato nel momento in cui ci hanno buttato fuori di casa quello è stato il distacco ma di tutta la famiglia si è rotta dove ognuno si è dovuto arrangiare quindi la motivazione che ti posso dare è questa quindi 22 sì noi ci siamo separati non è che non ci siamo più visti ci vediamo molto molto sporadicamente ci siamo staccati in quel periodo di tempo la famiglia si è completamente distrutta tu mi dici io sono diventato cinico dopo ti spiegherò perché però con il tuo gemello la vita vi ha detto ragazzi cercate di sopravvivere di crearvi il vostro futuro ognuno per sé perché è meno è meno una zavorra tra virgolette che essere tutti e dieci insieme comprendo queste immagini di cui tu parli però non vi siete mai cercati non avevate bisogno l'uno dell'altro sì sì io sono sempre stato molto orgoglioso no? per cui ho sempre evitato sia di cercare e sia di chiedere a chiunque nel momento del bisogno ti dico io non ho mai chiesto niente nessuno mai e penso che anche il fatto di magari doverlo andare a cercare significava chiedere qualcosa io lo metti in quella categoria lo vedo così lo vedo così per cui ho evitato mi sono chiuso nel mio guscio e sono andato avanti con le mie forze e ho fatto quello che ritenevo giusto fare questo è la come dire è la è la risposta la dignità di cui parlavamo prima quindi hai preso in mano la tua vita non hai chiesto niente a nessuno e hai cercato di costruirti il tuo percorso però orgoglio con tuo fratello faccio io ho due fratelli sono molto legato faccio un po' fatica non è un giudizio proprio volevo capirlo a livello emotivo allora perché ti faccio una domanda diretta però lascia stare tutto il trascorso che sicuramente la vita ci mette avanti a tanti fatti che poi diventano tante ancore per spiegare come mai abbiamo agito in quel modo però rispondimi solo con il cuore e se non senti niente mi dico io non sento niente non ti manca tuo fratello gemello certo che mi manca ovvio non vorresti riaverlo nella tua vita certo ho provato a rialacciare i rapporti più volte è normale solo che non troppe abbiamo ad oggi abbiamo due mondi molto diversi io tra l'altro lui ha due figli lo chiamai qualche mese fa per dirvi quando è che posso venire due abita a como ad oggi quando è che posso venire a trovare i miei nipoti ha sempre un comportamento ritratto un po' ostile nei mie confronti ad oggi tu conosci la motivazione? no non gliel'hai mai domandato? no allora probabilmente si tratta di una motivazione economica come i rapporti perché si rompono i rapporti uno dei tanti motivi qual è? la parte economica con tutta la famiglia è così quindi sei diventato cinico perché a un certo punto purtroppo tu sei quello io ad oggi tu sei quello che ce l'ha fatta da tutti che ha le possibilità ha i soldi ed è giusto che io dia una parte dei miei soldi a ognuno di loro è giusto perché lo pensi o perché loro lo pensano loro? lo pensano loro ok e tu cosa hai fatto rispetto a me lo io ho fatto quello che ritenevo giusto ma io non posso darti una pensione uno stipendio io non ho mai chiesto niente a nessuno io mi sono trovato mille volte in difficoltà quello che dico se io ti aiuto e ho aiutato credimi Luca ho aiutato tutti però se io non metto fine se io non chiudo i rubinetti è una storia che non finirà mai non ti darò mai la forza per rialzarti per trovarti qualcosa che ti dia da mangiare perché su alcuni fratelli parliamo proprio di questo mangiare parliamo di non avere proprio i soldi per mantenersi a livello alimentare tutti loro sono venuti da te a chiederti qualcosa? non tutti non tutti ma parliamo di la maggior parte sì e a un certo punto hai dato un taglionetto quindi alla parte pecuniale ma quindi anche alla relazione per loro era tutto tutto subordinato era tutto subordinato a quello perché io un giorno mi faccio a mio fratello più grande scusa perché mi chiami solo ed esclusivamente per chiedermi soldi a Natale gli auguri non me li fai il compleanno gli auguri non me li fai così scusa è come se chiamassi un bancomat e io non sono un bancomat quindi anche perché sono arrivati al punto di chiedermi una casa una macchina ragazzi non è così se a me avessero dato una casa una macchina io ad oggi non avrei niente niente perché non è il modo corretto di aiutare le persone al di là sembra una frase retorica ma i soldi non aiuti una persona attraverso i soldi l'aiuti in altri modi anche perché chiedimi vengo a fare questo vengo a fare quello e bisogna una mano in negozio no solo richiesto di denaro perché ti si gira contro la ruota nel senso tu dici io li ho aiutati tutti allora ti spiego subito nel momento in cui aiuti tu sei la persona più brava del mondo appena chiudi rubinetti diventi più grande figlio di puttana come se tutto quello che tu hai fatto in passato viene automaticamente cancellato vanificato completamente diventa un diritto acquisito capisci? è proprio nell'indole penso dell'essere umano questo però perché si aspettano di più e poi si arrabbiano e addirittura allora purtroppo quando tu guardi un personaggio perché ad oggi sono un personaggio sui social come me guardi fatturati di milioni questo Lamborghini tutto quello che c'è dietro orologi da centinaia di miliardi di euro per cui dici questo è una a non può servire una fonte inesorribile di denaro figurati con tutti i soldi che ha se non può darci centomila euro a testa per dirti non li sentirebbe neanche questo io entro nella loro mente questo è il ragionamento che secondo me viene viene automaticamente macchinato si autoprocessato si entriamo nel lavoro a 22 anni avete uno sfalato prima da casa poi dall'azienda a un certo punto ognuno deve costruirsi il suo percorso quindi hai detto consegnavi le pizze poi che succede? consegnavo le pizze ho fatto un lungo periodo a consegnare le pizze ho fatto il meccanico licenziato mi ricordo dopo un paio di giorni perché sai che i meccanici hanno il macchinario il carrello per sollevare le auto certo non aveva freni non l'ho frenato ho piegato il tetto della macchina via fuori dai coglioni ma perché? perché io mi sono mi sono trovato disorientato nel mondo del lavoro completamente spaisato non avendo mai lavorato ed è anche uno dei motivi che mi ha portato a frequentare brutta gente e successivamente a fare uso di sostanze poi ho fatto anche il pizzaiolo per diverso tempo poi mi mi stufo mi stufo faccio un breve periodo senza lavorare ma in quegli anni quei lavori di cui mi parli dove vivi? io vivevo in via Padova sì con la mia attuale moglie però lei ha una piccola casettina in via Padova e viveva con sua sorella non era proprio un vivere non era la mia casa era un vivichiare andavo lì ogni tanto mi lavavo dormivo sempre vissuto un po' lo sbaraglio cercavo qualche postoletto sempre in seconda mano giornali provavo per brevi periodi ho sempre per diversi anni ho sempre vissuto tra virgolette in mezzo alla strada e poi arrivo al punto al punto dove vengo aiutato per un breve periodo dai preti Don Orione che mi accoglie che età? avevo 20 forse 23 24 anni ok Don Orione che mi accoglie nel 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 suo dormitorio un dormitorio per giovani quindi ho fatto un periodo di diversi mesi a dormire con sette otto ragazzi tutti nella stessa stanza era un po' come una caserma militare ma mi è servito mi ha dato delle delle regole anche se non le seguivo dovevo rentare a mezzanotte rentavo sempre tardi a volte rimanevo chiuso fuori e mi è servito dopodiché successivamente smetto di fare il pizzaiolo e chiedo a un'officina meccanica se per caso potevano aver bisogno di un tutto fare entro inizialmente come lavagista entro come lavagista mi lavo le mie macchine che poi è il il lavoro che mi ha portato a conoscere un'altra azienda poi ci arrivo sempre di caro attrezzi per cui ho lavorato per parecchio tempo dal da lavagista cresco come caro attrezzi faccio sia il giorno che la notte quindi loro avevano un solo uomo che portava le auto sia di giorno che di notte per novecento mille euro al mese una cifra del genere però a me stava bene andava bene dormivi sempre al Don Orione? dormio sì ho fatto il come si fa a farsi accettare da una si dice una parrocchia ti dico la verità ha chiesto aiuto mia moglie la mia attuale moglie lei non poteva più ospitarmi per problemi con sua sorella quindi non avevamo soldi né io né lei quindi chiede aiuto a questi preti questi preti mi aiutano mi accolgono e rimango per diverso tempo lì lavorando quando poi ho cominciato sempre arrancato io chiedevo anticipi già all'inizio settimana chiedevo anticipi per la settimana successiva per cui arrivavo sempre ma perché perché guadagnavo poco a volte dormi negli hotel a volte dormi qua dormi di là quindi i soldi non ti bastano mai non riesci a mettere via dei soldi me ne vado da lì trovo un altro posto trovo un altro posto ovviamente non ho più i soldi per pagare la casa quindi faccio un periodo a dormire su una panchina in piazzale Durante a Milano dormo su questa panchina mi alzavo tu pensa mi alzavo della panchina inverno alle 6 di mattina prendevo la 62 giravo sulla 62 mi facevo i capolina per scaldarmi e intanto andavo in giro per le officine a chiedere lavoro a che età 24 25 giù di lì successivamente dopo aver lavorato sempre come caro attrezzista nel senso non stavi più lavorando non stavo più lavorando no no eri disoccupato ero disoccupato c'è un motivo per cui hai perso quel lavoro o? sì sì c'è stato un motivo per cui ho perso oddio ma semplicemente reputavo di guadagnare poco per cui io la mia vita notturna perché mi è sempre piaciuto divertirmi la mia vita notturna me la facevo sul caro attrezzi andavo in discoteca col caro attrezzi e questi mi hanno licenziato no semplicemente non si va in discoteca io addirittura per dirti sul caro attrezzi che poi lavoravo e lavoravo sodo andavo a fare gli interventi di notte mi ricordo una sera vado a una discoteca domenicana e carico degli amici dietro sul caro attrezzi con il lampeggiante ci ferma la polizia mi fa un verbale perché avevo caricato dei ragazzi che mi hanno chiesto un passaggio sul caro attrezzi ovviamente il verbale poi arriva al mio datore di lavoro mi fa o vai via o vai via non si può lavorare in queste condizioni ma ti dirò di più ero contento di essere andato via ero contento perché la vedevo come un'opportunità come se mi si aprisse una nuova porta per cercare qualcosa altro di più soddisfacente per me perché non potevo andare avanti sia di giorno che di notte per una cifra che francamente non rispecchiava le mie aspettative non mi prometteva di vivere una vita dignitosa e normale per cui vado via non ho più una casa obiettivamente anche dai preti me ne vado non sopportavo più di stare lì troppe regole entra quest'ora mia moglie no ma cosa fai te ne vai di lì torno in mezzo alla strada e allora torno in mezzo alla strada piazza Durante ho fatto quel periodo andavo sui pulmi e cerco lavoro gira 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 trovo un un'azienda si chiamava Bresciani Car Service adesso avrò sempre belle parole per quest'uomo nonostante non mi abbia mai assunto sempre pagato in nero e abbia dormito in un box con un cestino per fare la pipì avrò sempre belle parole adesso lui non c'è più però è stato il lavoro che mi ha indirizzato sulla strada giusta mi ha dato delle regole mi ha dato disciplina no? cosa facevi lì? Carlo Trezzi sempre Carlo Trezzi ah sempre la stessa cosa sempre Carlo ho iniziato anche lì lavavo tu pensa dieci macchine dieci macchine al giorno d'inverno dissi dieci macchine al giorno con l'acqua all'esterno all'esterno ti si spezzano tutte le mani no? arrivi alla sera che sembri una tartaruga e tutte le mani rotte e perché sarò sempre grato a lui? perché nonostante non mi abbia mai assunto stavo dicendo mi ha dato delle regole era un uomo buono un uomo buono che mi ha mi ha indirizzato sulla strada giusta e parliamo lì avevo venti ventisei ventisette anni ho lavorato lì fino all'età di trenta trentun'anni e dove ti lavavi? mi lavavo nel box c'era un punto acqua un lavabo andavo quando avevo bisogno di farmi una doccia completa andavo su negli uffici da lui e mi permetteva di farmi una doccia però io avevo solo il box mi aveva dato lui? il box mi aveva dato lui era in via Civitali c'erano trenta box lui avendo un'azienda di carattrezzi e noleggio auto ne aveva affittati parecchi e uno l'aveva adibito a stanza per i soccorritori di carattrezzi e io era anche un carino ma di inverno faceva freddo? la stufetta avevamo il lettino con la stufetta di fianco per cui non perché parli al plurale eravate più di sì eravamo 4-5 dipendenti che facevamo i turni turni ma ognuno aveva la sua postazione letto e ognuno aveva il suo scaldino per per l'inverno poi avevamo bisogno magari di fare dei bisogni un po' più solidi andavamo su in ufficio dove ti facevi la doccia c'era il bagno avevamo le chiavi dell'ufficio e andavamo su in ufficio però questo mi ha permesso di rafforzarmi di scovare una parte di me che non conoscevo successivamente io sarò sempre grato anche a mio fratello gemello perché lui mi ha fatto scoprire un lavoro che mi ha aperto parecchie porte il webmaster io ho fatto autodidatta webmaster mi sono messo lì guardavo i video come montare un cms come fare come disfare e producevo aggregatori di siti per adulti cosa vuol dire producevo aggregatori di siti siti costruivo facevi siti sì sì siti per adulti ok quindi hard per adulti intendi hard semplicemente tipo you porn x porn quindi costruivi il sito e chi era il tuo cliente aspetta ci arriviamo non c'era un cliente ho avuto un'altra domanda visto che siamo dove che facevi l'amore con la tua donna non avendo un garage a turno con gli altri e lei viveva con la sorella ogni tanto andavo a casa sua ogni tanto magari la sorella prendeva andava su in montagna e io mi spostavo a casa sua magari un sabato una domenica e andavo però bene o male siamo sempre riusciti ad edempiere i nostri doveri coniugali diciamo ok torniamo un secondo indietro come conosci tua moglie mia moglie in tutti i tuoi racconti lei è sempre presente ma te l'ho detto che io non sono bravo a mantenere un ordine cronologico di racconto per cui ogni tanto si va avanti ogni tanto si va indietro mia moglie la conosco nella discoteca gay a Milano si chiamava il Gesolin ero con mio fratello gemello mettiamo lì guardo questa ragazza mi piaceva particolarmente questo tratto quasi azteco no? molto affascinante e da lì nasce un'amicizia nasce un'amicizia che sfocia successivamente dopo mesi è stata è stata dura è stata molto dura ci siamo fidanzati che poi ha sempre fatto paura lei la parola fidanzati infatti mi chiedeva dopo sette mesi ma siamo fidanzati io e te certo che siamo fidanzati sei la mia fidanzata e a distanza perché le faceva paura perché voleva essere libera ha sempre avuto paura sì lei ha sempre avuto paura di legarsi sentimentalmente a qualcuno per cui io sono stato l'unico suo uomo e lei è stata l'unica mia donna quindi è stato un rapporto che ad oggi funziona ancora un rapporto duraturo di ben oltre 28 anni secondo te perché lei ti è sempre stata vicina malgrado cioè malgrado a volte sono i punti più belli vedeva qualcosa in me secondo me ha sempre creduto si è sempre fidata si è sempre fidata ma ha sempre stimato non io ho passato veramente tanti momenti difficili e lei è sempre stata l'unica persona che è riuscita a farmi rialzare con la sua forza diciamo che oggi sono quello che sono in gran parte grazie a lei invece sua sorella cioè loro quando è che smettono di vivere insieme quando è il momento in cui allora ci sono alcuni aneddoti legati proprio al trascorso di sua sorella che mi porta a prendere una decisione quindi a dire Marta tu non puoi andare avanti a vivere qua tu devi cambiare devi uscire da questo mood dal mood di tua sorella che ti porta solo a soffrire perché anche lei è una donna che ha sofferto tantissimo mia moglie si è occupata per anni e anni di una persona molto difficile e molto fragile che è la sorella? è la sorella la sorella che ad oggi non c'è più ok purtroppo è morta due anni fa ok e ho detto guarda devi andare devi andare via non distogli la testa è voluto dirlo da tua sorella perché se no ti ha niente quindi prendo la decisione ero già in una situazione economica più agiata leggermente più agiata prendo la decisione di affittare un appartamento senza dirle niente ho detto guarda che io ho preso questo appartamento adesso tu vieni via con me e ti togli dalla testa questa persona per un po' di tempo perché vedevo che gli stava creando dei problemi proprio a livello psicologico si stava annientando ha cominciato a dover mettersi in mano a uno psicologo proprio per riuscire a far fronte ai comportamenti della sorella quanti anni hai quando prendi quell'appartamento? 35 37 switchiamo sul lavoro quindi webmaster il tuo gemello ti porta in quel mondo fa i siti verticali per il mondo per adulti e ti chiedevo prima chi erano i vostri clienti e poi mi hai detto aspetta adesso ti spiego adesso ti spiego allora io lavoravo come caro attrezzista perché ringrazierò sempre anche questa persona che mi ha guidato nonostante non ci sia più mi ha guidato verso la strada giusta perché nell'ufficetto dove io alla sera consegnavo le macchine che noleggiavo ai clienti che rimanevano senza auto perché io la soccorsa io stesso mi mettevo lì un'oretta di pausa e mi guardavo qualche tutorial su come costruire un sito web questo grazie a mio fratello che mi ha portato sulla strada di questo settore lui già era abbastanza avezzo a questo settore qua e ho cominciato con i primi siti sai che a livello organico a livello SEO un sito non cresce nell'immediato ha bisogno di tempo io ho detto più ne costruisco e più la possibilità che vadano bene quindi prendevo qualche soldino acquistavo un server dominio facevo disfavo non mi avanzava mai niente ma sono riuscito a costruirmi un network che mi ha permesso dopo qualche li sviluppavi per te stesso i siti per me stesso e i contenuti dove li prendevi li grabbavo dai vari cube quindi tu prendi il codice embed da youtube parliamo semplice li andavi a prendere da altre piattaforme che ne avevano forse il diritto erano agli aventi diritto vuol dire potevano utilizzarlo ovviamente ti concedevano la possibilità di copiare il loro codice html da sotto il video lo vedi embed io ero semplicemente un aggregatore quindi non potevano sulla content ID intendo non potevano fare una rivendicazione del diritto assolutamente no perché il server non era materialmente in Italia il server era un server youporn io prendevo solo il codice e lo postavo sul mio sito semplicemente e per indicizzarti quindi hai parlato della seo prima per l'indicizzazione per il posizionamento cosa faccio quali erano le parole chiave articoli articoli sotto ogni video io mi ero abbalso di alcune persone tu pensa sotto ogni video ci doveva essere postato scritto un articolo affinché poi venisse indicizzato e posizionato su Google perché era il Google poi che portava il traffico se non sei nella prima pagina di Google nei primi risultati non conti un cazzo e traffico non te ne arriva per cui ho imparato mi sono messo lì ho imparato anche un po' di SEO e mi ricordo che frequentavo proprio per cercare persone che mi aiutassero a scrivere articoli alcuni forum e avevo trovato un forum che si chiamava disabili.com ho detto ma cazzo un ragazzo voglio dare anche l'opportunità a un ragazzo disabile di guadagnare seppur poco guadagnare quindi sopra magari la sua carrozzina si mette lì mi scrive articolo e io lo pago quindi così è stato ho preso un paio di persone disabili poi ho preso un'altra famiglia questo successivamente quando già i siti avevano traffico e mi avevano permesso di guadagnare delle cifre decenti però fare un articolo per indicizzare il sito e far sì che sia nei primi risultati dei motori di ricerca mi è chiaro ma per monetizzare devi vendere parlo semplice pubblicità e chi se ne occupava sempre io dell'advertising insomma sì sì ma era semplicissimo c'erano centinaia di programmi quindi in programmatica andavi su delle piattaforme che vedevano in automatico loro ti davano tu ti iscrivevi loro ti davano il banner tu questo pop up banner qualsiasi tipo di prodotto pubblicitario iscrivendoti te lo davano tu mettevi il suo banner al tuo sito e loro ti pagavano per la pubblicità in base al traffico in base ovviamente quindi non dovevi andare a vendere dovevi era esattamente come embeddavi un video in quel caso embeddavi il banner tutto molto automatico questa cosa mi affascinava molto perché dicevo cazzo inizialmente se posso mi ricordo i primi guadagni parlo di 7-8 euro però mi affascinava particolarmente perché ho detto cazzo se posso guadagnare 7-8 euro che obiettivamente mi sono arrivate senza fare un cazzo perché io stavo dormendo no? quindi il potenziale è altissimo quindi mi metto faccio tanti altri siti mi ricordo c'ho ancora lo shot sul telefono avevo costruito circa 150 siti ho detto puttaneva su 150 siti uno ma non andrà bene no? l'anno successivo io sempre lavavo macchine consegnare le auto al cliente mettevo lì facevo disfavo studiavo da solo proprio mi concentravo particolarmente la sera restavo lì l'anno successivo mi cresce il traffico arrivo ad avere un traffico molto importante di milioni di views su questi siti ce n'era uno che aveva fatto da colonna portante o più o meno un po' tutti non c'era un cavallo di battaglia no 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 ti crescono oddio il cavallo di battaglia tieni presente che come sui siti adesso è cambiato molto l'algoritmo una volta era tutto google aveva era pioniere di ogni sito aveva il controllo completo e l'importanza di essere nella prima pagina ti portava a guadagnare veramente tanti soldi adesso è un po' cambiato sono cambiati gli algoritmi proprio di questo motore di ricerca però all'epoca seguivi proprio delle linee guida delle linee guida che ti portavano ad avere del traffico importante keywords codici descrizioni erano importanti descrizioni dei meta tag da inserire nel CMS ed ero arrivato a generare un traffico abbastanza importante mi arriva una proposta da parte di un pubblicitario svizzero che mi propone di vendere tutto il mio traffico per tre mesi con un pagamento anticipato ma che cazzo che mi propone cento ero ottimo io ho mai visto tutti questi soldi non ti voleva comprare i siti ma ti voleva comprare il traffico per un trimestre voleva comprarmi il traffico per un trimestre da vendere agli operatori telefonici perché era il periodo dove ti ricordi il primo 3G dei telefonini vent'anni fa e i soldi arrivano veramente impressionato vado da mia moglie siamo ricchi non hai mai visto una somma così importante ma ti dico io ho provato a chiedere io non ho mai chiesto niente a nessuno però una sola volta che mi sono trovato nella condizione di provare a chiedere un anticipo al mio capo anticipo parlo te l'avrei ridati lavorando i 3.000 euro mi ricordo benissimo le sue parole ma come faccio ai dati i 3.000 euro che non li vedrai mai in tutta la tua vita mi ha tirato giù steso spaccato demoralizzato completamente per cui per dirti come spesso si invertono le parti perché poi adesso questa persona non si trova a lui nelle condizioni di poter far fronte ai suoi di debiti però poi non sto a quindi ricevi 100.000 euro ricevo 100.000 euro e che cosa ti passa per l'anticamera del cervello nel giorno in cui li vedi sul tuo conto ho detto Marta siamo ricchi vado a comprarmi un X6 40.000 a parto X6 BMW un Rolex Batman mi compro il Rolex li ho spesi tutti nel giro di pochissimo tempo li trovo nella merda dopo pochissimo tempo perché non essendo mai stato abituato ad averne non avevi neanche la cultura di come si gestiva non puoi saper gestire ma a parte che mi sembrava una somma infinita ho detto ma 100.000 non mi finiranno mai poi ovviamente non ti togli qualche sfizio certo che ti devi qualche sfizio tu dici mi compro un Batman vuol dire che eri già un cultore un appassionato mi piacevano gli orologi sì sì sono sempre piaciuti per cui mi sono comprato una BMW X6 e mi sono comprato un Rolex Batman mi è rimasti veramente pochissimi soldi quanto lo paghi il Rolex Batman? all'epoca 6.800 euro no scusa non oltre i 6.000 euro oggi sono lievitati così agli orologi quanto costa lo stesso orologio? ad oggi lo stesso orologio io lo vendo a 16 17.000 euro tu puoi avere anche un esempio classico la maggior parte di persone che vincono la super analotto rimangono sempre poveri puoi vincere milioni ma se non sai gestire i soldi per conto che più del 90% delle persone che hanno fatto sono diventate milionari o miliardarie col vecchio conio attraverso le lotterie hanno dilapidato il loro capitale certo ti ritrovi non nella stessa situazione di prima peggio peggio perché sei abituato magari a un tenore di vita un po' più alto per cui e non è facile risalire per cui sto dicendo che ti trovi in mano una cifra importante che per me era una cifra veramente importante e te la sputtani nel giro di poco tempo però oltre a non avere cultura nella gestione e amministrazione del denaro perché non hai mai avuto esperienza in tal senso c'è anche un altro pensiero credo che è quello di dire vabbè come li ho fatti adesso li rifaccio tra poco bravissimo bravissimo sì ho detto che realmente per un breve periodo è stato così perché poi ho riproposto a distanza di tre mesi non era ovviamente così in hype per cui non mi è stato pagato quelle cifre importanti perché era più che altro un test ripropongo il mio traffico per diverso tempo e la cosa va avanti un po' con lui un po' con altri sponsor per diverso tempo tre anni quindi tu hai capito che esisteva un nuovo modello di business dicendo io vado a affittare il mio traffico per dei periodi a una sola entità sì e veniva utilizzato per campagne pubblicitarie su operatori telefonici italiani era appena nato il 3G per cui se dirottavi una pagina web sul telefonino ti appariva un contenuto adulto che ti fotteva 5 euro dal telefonino ma era tutto legale una parte la prendevo io una parte la prendevano gli operatori telefonici e una parte la prendeva il broker che mi aveva pagato il periodo di prova questo muore successivamente dopo quando esce l'antitrust e dà delle grosse multe agli operatori telefonici perché obiettivamente ti scalava il credito telefonico senza motivazione alcuna allora successivamente hanno introdotto il PIN il PIN ha fatto sì che questo mercato in Italia morisse definitivamente per cui mi ritrovo al punto di prima con pochi soldi perché poi oggettivamente qualcosina ho imparato con il tempo ho detto cazzo se mi finisce il business rimango senza niente quindi qualcosa accanto a me qualcosina qualcosina avevo vivevi in un appartamento più in un appartamento avevi soldi per pagare l'affitto e per fare la spesa questo lavoro qua a me mi ha permesso di comprare un appartamento attenzione addirittura certo mutuo però mi ha permesso mi ha mi ha mi ha permesso di riuscire hai comprato un debito diciamo che ho comprato però io mi sentivo in quel momento mi sentivo importante cazzo vado in banca non ho mai avuto niente chiedo mutuo mi erogano il mutuo sulla base dei miei redditi ragazzi era più una garanzia per poter contrarre un debito con le banche tenendo sì infatti poi una delle prime cose che ho fatto è estinguere questo mutuo detto questo in questo lavoro qua avevo messo veramente da parte poco parliamo di forse 20.000 euro questo lavoro qua successivamente muore completamente quindi mi ritrovo nel attenzione perché prima che morisse questo lavoro qua io sono riuscito a vendere tutto il network a un americano che ho conosciuto su Skype quindi gli propongo il mio network vedo in lui un grande interesse pattuisco la cifra trattiamo sulla cifra chiudo l'accordo e mi metto in tasca alti mi ricordo se erano 20 o 30.000 euro comunque via prendi tutto a 20-30.000 gli hai venduto il tuo network quindi lui ha sommato il tuo traffico a altri traffici che aveva detto traffici così sembra un narcotraffico però l'audience in modo tale da creare un grande network esatto come lo conosci questo su Skype? attraverso un forum che era all'epoca c'era Adult Italy era un forum relativo proprio a tutti questi generi di contenuti e siti per adult per webmaster quindi conosco questa persona qua e tu parli inglese? no no ma traduttore io tutto vado di translate google translate ok ok alla grande proprio ok vedi il network l'ultima parte che ti rimane l'ultima parte vuol dire non generava più soldi vedi il network e che fai? vivo per diverso tempo con questi soldi a mano a mano i soldi finiscono successivamente dopo mi ritrovo nella stessa identica situazione Marta faccio sono rimasti questi soldi o mi invento qualcosa e riprovo un altro lavoro fai i siti normali e-commerce lei lavorava nel frattempo? lei è sempre stata occupata nell'insegnamento a scuola professoressa diciamo di accademia belle arti quindi in Brera Milano? in Brera Milano ha fatto la Naba ha fatto Brera ha fatto diversi istituti no? ha insegnato anche a alunni delle scuole superiori lo fa tuttora? no no basta non lavoro più no non riuscirebbe proprio a conseguire lei si è sacrificata molto per stare dietro a me quindi ti aiuta nel lavoro? si 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 aiuta nel lavoro e in casa e rimaniamo nella stessa identica ci ritroviamo nella stessa identica situazione allora ho detto cazzo ho il Batman mi è rimasto il Batman cosa faccio? mi vendo il Batman allora lo pubblico su subito.it e mi vendo il Batman da lì quanto l'ho venduto? 7000 leggermente in più perché era aumentato il listino 7000 euro e da lì ho detto cazzo no questi soldi qua compro un altro orologio lo rivendo compro rivendo ho fatto per 7 8 mesi un anno il rivenditore in strada però ho visto che funzionava cosa voglia in strada? in strada un po' sui vari siti come una volta c'era la seconda mano su subito cioè compravi da una parte e rivendevi con lo stesso strumento dall'altra mi sono creato la mia rete di contatti attraverso i portali di oggi subito nella fattispecie era subito .it sia per l'acquisto che per la vendita sia per l'acquisto che per la vendita una volta che poi ti crei i canali i contatti diventa tutto abbastanza automatico allora conosco questa persona che ad oggi è ex titolare del negozio dove mi trovo oggi che mi propone guarda il mio collaboratore non vuole più stare lì te lo propongo a te mi dai 30 mila mi dai pian pianino mi dai a rate mi dai questi 30 mila euro e te lo cedo a te ne parlo con mia moglie mia moglie la prima cosa che sarebbe stata una buona uscita che sarebbe stata una buona uscita ok perché poi l'affitto lo pagavi a parte però ne parlo con mia moglie la prima cosa mi dice tu sei un pazzo io non voglio che lavori in quel settore lì scoppia piange dice è un settore molto molto pericoloso ci manca solo che ci rapinino no? allora ne parlo prendo la decisione contro la sua volontà perché me l'aveva sconsigliato è stato oggetto di litigata questa decisione e vado fino in fondo quindi prendo il negozio era il 2018 18 17 che si chiamava? la bottega del tempo e vendeva orologi? no vendeva collanine orologi qualche orologino ma proprio poca roba io ho mantenuto per anni la bottega del tempo perché? perché non avevo neanche i soldi per cambiare l'insegna discorso è questo ma non ti conveniva prendere un posto senza buona uscita dove pagavi semplicemente l'affitto visto che avresti avuto una clientela diversa? è una questione di comodità era in centro ok me lo dava già strutturato a gioielleria per cui ho detto 30.000 euro sto pagando i cespiti pago i cespiti perché una 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 vetata blindata tutto l'impianto di antifurto telecamere ok se tu prendi ti costerebbe ancora di più poi me lo fa in comode rate mensili per cui a me va bene prendo questo negozietto e comincio con i primi orologini comprovendo 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 quello che facevi su subito lo vendevi in negozio mi ricordo che tutti i miei conoscenti perché poi ad oggi qualche amico del settore ce l'ho messo a mano di che anno parliamo qui? 2017 diciamo novembre 2017 ok il piede il negozio ce l'ho messo a novembre 2017 mi ricordo che mi diceva ma cosa fai lascia stare ti ritrovi in un mare di merda tasse da pagare cazzi mazzi perché tanta gente che si occupa di questo tipo di settore parli di tasse disastro molta gente lo fa proprio svolgono questa attività molti non vogliono neanche il negozio vogliono farla fuori proprio per fare tutto con il tante molti lo fanno così diciamo cosa fai ma lascia facciamolo così perché anch'io ai primi tempi l'ho fatto così lo facevo vendevo 5 mila euro cash compravo un altro orologio 4 mila lo rivendevo a 5 però era tutto cash funzionava così e ho detto no non mi piace questo genere di attività svolta così all'oscuro non mi piace voglio un negozio voglio riuscire a campare di questo lavoro con una struttura fisica allora mi apro questo negozio comincio primo orologio primo anno forse faccio per il primo anno intendi il 2018 perché poi hai aperto a fine 2017 tieni presente i primissimi tre mesi niente novembre dicembre quindi erano due mesi quanto pagavi d'affitto o quanto paghi visto che c'è 18 ci sono ancora lì non l'hai mai ingrandito no adesso poi ci arriviamo perché ad oggi ad oggi è sempre il medesimo però è sempre il medesimo ma c'è la volontà di ampliare ho preso un negozio di fianco l'hai già preso? già preso dove faccio le borse ho già preso un altro negozio sempre di fianco di 200 metri quadri sì e sto investendo circa 600 mila euro per ingrandirmi ok quindi io a febbraio apro con questa questa nuova avventura che sicuramente mi permetterà di andare oltre quello che sto facendo oggi tu credi che incasserai di più se avrai più metri a disposizione o è più un tuo modo di farti vedere a te stesso e all'universo che ce l'hai fatta? no no assolutamente non credimi che io tutti i giorni ho la fila fuori dal negozio ok no è un modo per per dare al per accogliere meglio il per accogliere il cliente in un luogo più confortevole senza doverlo fare aspettare fuori anche perché parliamo di orologi da centinaia di migliaia di euro non esiste che tu aspetti fuori come se fossi alla messa scolastica capisci per cui quanti metri hai adesso? in questo momento con tutto la parte è calpestabile dal cliente quindi se hai un back no quello che un cliente ha a disposizione come superficie 200 metri circa adesso no no adesso no adesso 10 metri forse 10 metri ok questo è che volevo sapere sì quindi capisci che io in 10 metri e poi è una sorta di laboratorio dietro dove sono adesso la location è quello che la gente vede adesso sui social no no ha un piccolo ufficetto ma il posto in cui io svolgo ad oggi la mia attività lo tengo e lo trasformerò a laboratorio sono 10 metri quadri calpestabili io adesso non dico di voler raggiungere chissà quali livelli però già ad oggi faccio 25 milioni dentro 10 metri quadri quantomeno ho la speranza di fare qualcosa in più di 200 metri quadri non vendi niente online tutto fisico? no no anche online andiamo sull'escursus perché sei arrivato alla fine è interessante far capire la meta torniamo indietro quindi per i primi tre mesi nada i primi tre mesi poco poco diciamo mi entra mi entra l'omettino mi porta un orologino cominciavo a vendere i primi cartierini pensa che avevo in vetrina i libri mettevo i libri in vetrina per occupare lo spazio della vetrina poi mi facevo magari dare qualche orologino da qualche conoscente in conto vendita dai dammelo che proviamo a vendere lo metto lì e ho cominciato così cominciato veramente con poco come hai fatto ad allenarti per avere l'expertise nel valutare un prodotto che una persona ti vendeva per non rivendere una sola non prendendola prima tu pensa che inizialmente avevo la presunzione di saper fare questo mestiere mentre invece ti rendi conto guardando dietro che non lo sapevo fare perché ho preso ad oggi comunque facciamo le corna non ultimamente truffe non le ho più prese però è un lavoro in cui devi mettere a budget una parte di soldi in truffe quindi io all'epoca non avevo questa parte di soldi e mi ricordo la prima truffa l'ho presa da un ragazzo russo dopo due anni di attività di 60.000 euro 60.000 euro a me lì mi hanno rimesso in ginocchio un'altra volta capisci? cos'hai comprato per 60.000 euro 53.500 euro tre rolex daytona comprati falsi ma te ne accorgi perché quello a cui l'hai venduto è tornato da te no no è stata una roba psicologica allucinante allora questo ragazzo mi aveva venduto inizialmente orologi veri tutta roba perfetta io controllavo i primi ho abbassato la guardia mi porta questi tre non so perché non li ho guardati mi sono mi sono fidato era riuscito a conquistare al 100% la tua fiducia gli avrei lasciato in mano le chiavi del negozio per dirti mi ha stregato mi ha stregato lui esce dal negozio io l'avevo già pagato lui esce dal negozio guardo gli orologi ho detto sono falsi me lo sentivo subito li apro ho detto sono falsi ricordo che era il giorno del mio compleanno 23 marzo del 2019 forse e mi sono messo a piangere ho chiamato mia moglie ho detto mi hanno truffato mi hanno truffato una cifra veramente importante all'epoca appena iniziato per me era quello avevo messo ero riuscito ad avere un piccolo mio stock in un anno dall'apertura i 60 70 80 mila euro per cui di orologi già pagati da vendere sarebbe stato marginalità sì di orologi già pagati da vendere meno male non era non era merce di nessuno quindi non era merce lasciata in contavendita se no mi sarei trovato doppiamente in difficoltà no? invece c'era merce mia non l'hai mai più visto questo ragazzo mai più visto però pensa è un attimo proprio quando abbassi la guardia pensi di avere il controllo su te stesso invece ce l'hanno gli altri controllo su te stesso mi è molto chiaro torniamo indietro quindi tu i primi tre mesi poca roba e quando è che cominci a a prendere il giro comincio a prendere il giro sempre nel 2019 sempre quell'anno lì prendo il giro perché comincio a sponsorizzare la mia attività attraverso google ho detto cazzo non mi entra nessuno ma è possibile io non posso aspettare che mi entrino dalla porta facciamo qualcosa quindi sponsorizzo io ero già abbastanza del settore quindi non ero un novizio conoscevo campagne pubblicitarie google adwords eccetera quindi mi mi costruisco le mie prime campagne pubblicitarie investendo una parte di soldi in pubblicità mi apro instagram ho detto c'è anche instagram su google ci mettevi la faccia o era il prodotto che parlava andavi sul singolo prodotto no no singolo prodotto sì 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 assolutamente non avevo neanche un sito web me lo sono creato successivamente in base a quello che dovevo fare sulle campagne pubblicitarie quindi per me ed ero perché riportavi il traffico lì riportavo il traffico lì ed ero completamente antisocial ho detto però apriamoci sto cazzo di instagram che ce l'hanno tutti no mi apro instagram non funzionava no primo account ce l'ho ancora si chiamava la bottega del tempo perdo la password l'account ce l'ho ancora se vai la trattino bottega trattino del trattino tempo milano c'è ancora il mio vecchio account con 358 follower una roba del genere dove postavo video facevo di salve allora chiamo un'agenzia che mi seguisse perfettamente le campagne ho detto io voglio questo 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 e questo quindi si propongono di crearmi una ventina di landing page no che riportavano il traffico al sito no in modo da mandarmi la giusta quantità di traffico che mi permettesse di avere clienti no con la finestrella che rimanda whatsapp quindi un contatto diretto comincia a suonarmi il telefono whatsapp mi cominciano a arrivare orologi foto di orologi prime valutazioni e la gente arrivava mi vendeva quindi in realtà è stato grazie a sempre alle le competenze informatiche che avevo già in precedenza che mi hanno permesso di riuscire a partire con questo lavoro qua no io conoscevo un cazzo di orologi mi sono ho studiato sul sul campo sul ho imparato sbagliando hai avuto un maestro che ti ha spiegato tutto o no? una persona che ti ha un po' indottrinato? no chiedevo a un mio carissimo adesso lo chiamo carissimo amico perché è un laboratorio che mi ha insegnato tanto un ragazzo pakistano e chiedevo informazioni a lui perché io una delle prime vendite l'ho fatta a questo ragazzo pakistano che gli ho venduto un cartier Santos Rondé a 600 euro ok pubblicato su subito e fa parte della rete di contatti che mi sono creato grazie al subito subito fa parte di quella rete di contatti e da lì ho cominciato ho cominciato con i primi orologi marginare poco mi accontentavo di cifre sempre più basse 50 euro 20 euro va bene pur che sia margine va bene anche 20 euro andiamo a pari questo giro andiamo a pari va bene andare a pari fino che poi ho detto no qua bisogna alzare un pochino livello cerchiamo di cerchiamo io avevo torno un attimino indietro ho avuto un socio ok per tre mesi ho avuto un socio e era mia intenzione aprire da solo però poi sempre attraverso internet ho conosciuto questa persona che mi ha detto dai ma vengo dentro anch'io io faccio i gioielli e tu fai gli orologi va bene proviamo non c'era nulla di scritto il suo nome non risultava neanche siete divisi l'investimento no nel senso che gli orologi li facevo io e lui faceva i gioielli per quanto riguarda gli orologi non era diviso l'investimento l'unico investimento che ci siamo divisi faceva parte dell'arredamento una parte no l'investimento intendevo i 30.000 euro che hai dato per acquistare e l'affitto ah io lo pagavamo assieme questo intendevo i tuoi orologi erano il tuo business e lui faceva i gioielli sì sì certo è durato tre mesi nulla contro di lui bravissima persona però mentre io mi alzavo arrivavo pulivo per terra pulivo il bagno lavavo i vetri tutto lui era seduto a guardare e fumarsi la sigaretta a un certo punto come quando vai a scuola se hai un sentimento quando ti alzi negativo e hai l'angoscia di andare a lavorare c'è qualcosa che non va per cui io dovrei essere felice di fare il lavoro dei miei sogni per cui allora lo prendo da parte e dico facciamo una roba io non ti voglio mandare via o vai via te o vado via io scegli e allora lo liquido lo liquido facciamo i conti di quello che era suo di quello che era mio e lo mi ricordo che l'ho liquidato con 12 mila euro che avevi sì uno dei motivi che mi ha fatto scattare la molla a me non piace dover rendere conto a qualcuno perché l'ho fatto per la maggior parte della mia vita quindi ho detto voglio decidere da solo tanto se sbaglio io sono cazzi miei sono io che ho sbagliato per cui mi ricordo quello che mi ha fatto scattare la molla un giorno compro un orologio glielo mando a lui gli dico guarda cosa ne pensi ho comprato questo no sei un coglione non dovevi comprarlo soldi buttati via quello che mi ha fatto scattare la molla ho detto secondo me è un orologio valido infatti poi è stato rivenduto con un discreto margine io so che lo switch è su un prodotto un GMT Master non so se due comunque un GMT Master GMT Master 2 che tu fondamentalmente paghi circa 5.000 euro bravissimo e quel GMT Master aveva la caratteristica di essere un GMT particolare aveva il simbolo del Loman il sultano del Loman all'interno del quadrante ma io ti dico ho chiesto al cliente quanto vuoi di questo orologio e lui mi dice ma pensavo un alpino mi ricordo pensavo 4.000 5.000 euro 4.000 5.000 cerco di trattare lo stesso dai fai 4.500 ovvio la trattativa di default fa parte del gioco la trattativa no dai 5.000 chiudo l'accordo con questo lo faccio vedere ma va secondo me questo simbolo qua è falso faccio vedere ad alcuni colleghi ma guarda secondo me è falso però se vuoi te lo compro io a 10 10.000 euro i colleghi ma tu dici beh c'è qualcosa qua c'è qualcosa qua ricordo lo pubblico su Crono24 e mi arriva una proposta a 100.000 euro venduto a 100.000 euro allora lì parto investo questi 95.000 euro per comprare altra merce e da lì ho dato il via a quello che realmente poi sono oggi grazie a quella quello ti ha dato le finanze per poter comprare più prodotto perché per esempio nel mondo immobiliare la gente immobiliare prima ancora di trovare il cliente deve trovare il prodotto vuol dire la casa da te ti è mai capitato di avere più clienti che prodotti cioè il cliente ti chiedeva cos'altro hai e tu non avevi niente allora questo è successo durante la bolla speculativa del 2021 ok no gli orologi si vendevano come il pane perché perché crescevano stando fermi tu hai un prodotto con cui margini senza venderlo lo margini tenendolo fermo lo tieni fermo un mese fai 20 mila euro in più e quello è stato l'anno che a me personalmente mi ha permesso di svoltare perché io avevo in quell'anno lì sono riuscito da mettere da parte tanto stock ho tenuto fermo questo stock e l'ho venduto nel momento in cui era da vendere all'apice all'apice e ho tanta roba anche su cui ho perso dei soldi ovviamente perché quando fai i stock c'è il rischio un po' si alza un po' si abbassa quando è che comincia ad arrivare la clientela quando è che comincia a prendere il grande giro il grande giro comincia ho detto cazzo social social se funziona AdWords che ormai ad oggi è un un canale comunicativo obsoleto deve funzionare Instagram come fanno questi influencer ad avere questo follo questo traffico importante allora mi sono ero al mare mi sono inventato 2020 21 2021 sì ok e mi sono inventato di spaccare gli orologi falsi mi sono inventato quel format quindi prendevo come ti è venuta la prima volta la prima volta molto molto istintivo ho detto qualcosa che faccia sorridere le persone che attiri un pubblico perché questo settore è un settore dove dieci anni fa entravi solo se avevi la giacca la caravatta perché io personalmente ti dico ho sempre avuto soggezione ad entrare in un negozio di orologi di lusso per cui ho sempre evitato di entrarci ad oggi diciamo che ho cercato di sdoganare un po' questo settore avendo portando un pubblico un po' più giovane infatti io non sono uno che veste giacca magliettina e vendo i miei orologi da centinaia di migliaia di euro in maglietta e credimi li vendo perché li vendo tutti i giorni allora ho detto cerchiamo di portare un pubblico giovanile per attivare un pubblico giovanile devi ad oggi o essere uno youtuber o essere un influencer quindi voglio diventare un influencer ma non un influencer che si vende per niente voglio diventare un influencer nel settore del lusso nel settore degli orologi quindi le provo tutte parto martellate prendo orologi li compro comincio con video scherzosi che ad oggi li guardo mi sto sul cazzo da solo per dire mi guardo i video di un paio di anni fa e non mi piaccio per niente ogni tanto mi vado a vedere nell'archivio delle storie non mi piacciono però è servito per attirare un certo tipo di di utenza utenza giovane poi sono arrivati effettivamente arrivavano e compravano allora ogni format non può resistere a lungo ti inventi qualcosa altro mi sono inventato un telefono che sbatteva contro la testa e me lo ricordo talmente mi sono talmente rovinato la fronte che avevo fatto un bernoccolone qua ho dovuto smettere perché mi si era deformato una parte di cranio lo picchiavo forte me lo ricordo bene e ha funzionato anche lì poi ho detto facciamo qualcosa di più intelligente anche questo basta chiudiamo è ora di chiudere anche questo format regaliamo qualcosa qualcosa al cliente il cliente compra un orologio però se tu gli regali qualcosa è sicuramente più contento e allora comincio produco questi orologi i ruzza watch un pezzo di plastica come si chiamano il talismano il talismano del benessere del benessere l'idea mi è venuta grazie a un mio amico che mi regalò un orologio simile a questo ho detto belli quasi quasi li produco e li regalo faccio 250 pezzi ragazzi che andavano a ruba piacevano tantissimo li pubblicavo su instagram ho cominciato con dei piccoli contest per far riconoscere gli orologi quindi ho cominciato a regalarli ma attenzione io per tre anni questi orologi li ho solo regalati senza mai incassare un euro è vero e ho visto che si è aperto un mercato diciamo parallelo si è aperto un mercato parallelo non potendoli comprare attraverso quel canale invece si poteva e ho visto che avevano un valore alto perché la gente li vendeva 4-5 li vendono anche se vai sui siti i vari siti a vedere vinted eccetera eccetera li vendono a delle cifre alte 3-4-500 euro allora io ho detto ma no ma però non li vendo non li vendo perché voglio portarli più in alto e riuscire ad attirare ancora più clienti poi mi hanno invitato anche tanti i miei colleghi sono contento perché è un format che funziona ed è giusto che vada replicato quindi sono contento sono riuscito a portare la mia attività dal vendere 20 30 orologi 50 orologi l'anno ad oggi ne vendo 2000 2000 orologi l'anno e sono numeri veramente importanti regalando 2000 talismani del benessere quindi piace tu dici che vendi orologi da centinaia di migliaia di euro ovviamente non sarà la maggioranza delle cose che vendi immagino che lo scontrino medio sia diverso però hai parlato di giovani perché per molte persone nel mondo della comunicazione diciamo i giovani non hanno questo potere di acquisto i giovani non si possono permettere beni di lusso qual è la media il target medio di età dei tuoi clienti dai 20 ai 30 anni io ho tanti clienti molti giovani che fanno la formichina per potersi permettere un orologio e acquistarlo da me il loro primo orologio lo vogliono comprare da me perché sono per alcuni sono il sono anche lusingato il loro idolo per cui vogliono venire da me a comparsi il primo Rolex sono molto orgoglioso di questo giovani che si mettono via pian pianino lo stipendio per comprare il primo Rolex e comprarlo da te vuol dire vivere anche l'esperienza ti volevo chiedere quella persona che vuole vivere l'esperienza viene prima li prova gliene fa vedere un po' o arriva e a colpo secco compra allora tieni presente che io ho un flusso di persone quasi tutti i giorni altissimo il negozio e di l'indirizzo del tuo negozio via Cesare Battisti 8 ok un flusso veramente alto per cui il 50% delle persone che vengono vengono per potersi fare una foto con me potersi provare guardare l'orologio fare tra l'altro ho inventato un altro format quindi ragazzini giovani il format si chiama fai finta anche tu di avere un Rolex per il tuo Instagram story ragazzini che vengono si fanno la foto provano testano ragazzi oggi ho comprato questo orologio da grande ruzza l'ho pagato 400 mila euro e si fanno la story e io glielo lascio fare perché funziona perché piace perché regali e non è sbagliato regali un sogno a un ragazzino per questo prima parlavo di esperienza l'esperienza è il negozio iconico la tua figura iconica il fatto che tu gli metti un prodotto un oggetto come dire da sogno tra le mani con fiducia ovviamente in un contesto protetto questo è evidente quindi è bello l'approccio io ti vedo attraverso le stories l'approccio molto umano cioè vedo che sei proprio gentile con le persone sono molto gentile con le persone perché sono mi metto nei loro panni essendo io in prima persona molto fragile sensibile e timido quando io dovevo entrare in un negozio in una gioielleria che ero più giovane non c'entravo non c'entravo perché mi sentivo guardato dall'alto verso il basso ed è quello che io non voglio fare non voglio lanciare un messaggio ai giovani che chi fa questo lavoro chi si può permettere un determinato prodotto se lo può permettere solo se magari è pieno di soldi bisogna dare a tutti io penso che bisogna dare a tutti la possibilità di poterlo comprare vuoi comprare la rate io ti do la possibilità di comprare la rate ho fatto per un breve periodo di tempo finanziamenti vendevo dal commesso delle poste fino al quadro dirigente le ho provate tutte ho cercato di avere una clientela il più mista possibile dal povero al ricco e ho visto che questo tipo di strategia che poi è anche una non è solo una strategia è proprio il mio modo di approcciare con le persone umano funziona quindi hai sovvertito diciamo un target elitario rendendolo popolare alla portata di tutti esatto alla portata di tutti uno stoganamento del prodotto torniamo alla paura di tua moglie all'inizio la paura che ti potessero rapinare te lo domando perché so che è accaduto è accaduto perché l'ho visto anche in televisione quella notizia come dire è stata abbattuta è accaduto a tuttora mi ha lasciato dei segni proprio a livello psicologico io ad oggi non metto più orologi non indosso più perché quando cammino per strada ho provato a indossare orologi mi guardo sempre dietro perché mi hanno preso la seconda volta la seconda rapina che ho subito mi hanno preso da dietro con una pistola alla tempia per cui mi è rimasto questo comportamento che nel caso dovesse uscire con qualche orologio mi guardo continuamente alle spalle evito e ho subito una spaccata una rapina e un'aggressione raccontami la prima allora ero all'interno della mia attività quindi eri dentro il negozio ero dentro il negozio con mio figlio allora il negozio io l'ho ristrutturato completamente dopo questa esperienza dopo questa vicenda sento sembravano dei colpi di pistola io non vedevo non avevo monitor non avevo le telecamere le avevo ma non avevo un monitor che mi permetteva di vedere il modo nitido all'esterno esatto e sento questi rumori fortissimi era un ragazzo balcanico insieme a un altro l'altro si occupava solo di fare da palo mi stava prendendo a martellate la vetrina 7, 8, 10 colpi di mazzetta quindi pochi secondi pochi secondi io sono rimasto impietrito paralizzato sai cosa vuol dire che ognuno reagisce la paura a suo modo io sono rimasto completamente paralizzato il mio figlio ha chiamato la polizia è stato lui a chiamare la polizia mi hanno sottratto due orologi del valore complessivo di 80.000 euro e sono corsi via cioè quindi hanno rotto la vetrina hanno preso in una manciata quello che si poteva prendere e sono scappati sono andati a gambe questo è successo alle 11 di sabato mattina alle 11 in pieno centro Milano pieno centro adesso ovviamente hai adeguato totalmente diverso ho rifatto il negozio e ho una guardia dalla mattina alla sera una guardia armata all'esterno del mio negozio io se non ho lui non faccio entrare nessuno non ho da quando tu hai messo questa guardia non è più successo niente? niente è un bel deterrente la guardia sicuramente quello è il primo episodio il secondo l'aggressione è tu in strada? in strada in strada mi hanno seguito indossavi un prodotto importante? non indossavo mi hanno seguito e sicuramente sapevano che avevo nella borsa quel tipo di orologio perché io indossavo in realtà io indossavo sempre all'epoca un Pater Philippe 59-80 in oro rosa lo usavo per andare in giro di notte di giorno uscivo sempre con questo Patek per cui la mia idea che il loro sospetto fosse che anche uscendo dal negozio quel giorno avessi questo Patek in realtà avevo uno de marpighé nello zaino che stavo portando in lucidatura l'ho portato in laboratorio torno dal laboratorio avevo mi ricordo una Porsche Carrera all'epoca parcheggio la Porsche in garage salgo mi aggredisce un uomo col braccio mi punta una pistola alla testa io reagisco istintivamente gli tiro una gomitata mi butta per terra riescono altre quattro persone pistola alla testa mi prendono a calci i pugni e mi prendono tutto zaino tutto quello che avevo questa è stata la seconda molto molto mi ha lasciato anche in questo caso un particolare trauma da lì non ho più utilizzato niente faccio a meno di utilizzare oggetti preziosi vivo bene così quindi tu portavi fuori l'orologio per la lucidatura il motivo per cui ti vuoi fare anche il tuo laboratorio per non portare fuori più niente certo quindi adesso ti entra il prodotto in negozio il motivo per cui parlavamo di fatture tutto è il fatto di non avere anche oltre che pagare le tasse essere protetti dallo Stato e anche non avere contanti dietro quindi tu quando esci dal negozio sono carte di credito va direttamente sul conto neanche con carte di credito perché non mi porto tutto sul telefonino basta quindi tu non hai più contanti non porti mai fuori un prodotto né contanti purtroppo e ti dico purtroppo pensavo mi aiutasse in questo lavoro qua con la nuova legge che hanno introdotto sull'aumento di contanti per me è diventato un problema perché ultimamente io i 4.000 5.000 euro in contanti li devo prendere perché non posso mandare via un cliente però io dico sempre preferisco il bonifico mi ritrovo ad avere delle quantità grandi di contanti da avere in banca avversaria per me è un problema è una roba in più da risolvere e quindi esci col contante esco mi faccio accompagnare dalla guardia vado in banca porto il contante come fai a distinguere un orologio falso dal vero e ormai non ti so dire come faccio è esperienza io lo prendo in mano lo vedo lo capisci subito lo capisco al volo proprio e li hai sempre sgamati tutti ormai tutti e ancora oggi quando uno è falso lo spacchi sì se il cliente è d'accordo perché non mi permetto di romperlo contro la sua volontà se il cliente è d'accordo io lo distruggo davanti la maggior parte sono d'accordo immagino che tu abbia visto mille scene da Mario Merola di persone che facevano le stupite dal momento in cui dicevi che l'orologio era falso ne ho filmate anche tante te lo dico perché ne ho viste stupite no i falsi non si sa perché sono sempre regalati dal nonno defunto quindi non puoi neanche chiamare il tuo nonno perché tanto è morto e dire nonno ma che cazzo mi hai regalato sempre così in realtà chi ha in mano un falso sa bene di avere in mano un falso invece come fai a sgamarne uno rubato rubato allora innanzitutto partiamo dal presupposto che chi ti vende merce rubata non vuole il tracciamento e vuole il contante per cui io non prendo né contante voglio solo bonifici bancari soprattutto non ti rilascia il documento per cui nel momento non ha né scatola né garanzia non ti rilascia neanche il suo documento di identità già che uno ti dà il documento è un segnale tra virgolette che l'orologio è lecito e non è rubato a me è capitato più volte che mi entrassero soggetti con un certo tipo di orologio e te ne accorgi dal fatto che magari te lo propongono un oggetto che vale 100.000 te lo propongono a 20.000 mi è capitato mi ricordo qualche anno fa uno de Marpighet è entrato un ragazzo mi fa vuoi questo de Marpighet te lo vendo valeva in realtà 80.000 euro e me l'aveva proposto a 10.000 euro gli ho detto va a tenere perché io sto chiamando la polizia io ho risposto proprio così se non vai via io chiamo la polizia successivamente mi viene mandata il giorno dopo una foto da un commerciante che mi prenderà lo stesso orologio per cui è uscito da me ma qualcun altro l'ha venduto per cui io ho la coscienza posta e non ho mai comprato nulla di illecito o rubato qualcun altro purtroppo non può dire la stessa cosa oltre che l'orologio hai detto adesso quando amplierò il mio negozio voglio dedicare una zona al mondo delle borse borse ho già aperto un negozio adesso domani dopo domani lo apro ufficialmente che tipo di borse Chanel Hermes e Vuitton quindi farò prevalentemente nella nuova sede quella che aprirò di 200 metri quadri a dicembre farò per lo più adiacente al tuo negozio sempre di fianco una di fianco l'altra farò per lo più Hermes cioè nel senso Hermes vuol dire Birkin e Kelly cioè quelle borse che anche andando in negozio sei in una lista d'attesa lunghissima esatto poi ho preso questa altra parte di attività che ho voluto dedicare soltanto alle borse tra virgolette low cost ma è un'attività che deve girare da solo non posso essere presente sempre io H24 a vegliare su tutto è un'attività che ho preso che ho detto metto a budget un anno vediamo se gira se non gira la chiudo però deve girare da sola non ci deve essere la mia presenza deve essere completamente slegata dalla mia immagine e se funziona la tengo ci sarà però una risorsa che venderà una commessa ho già preso una ragazza mi fai un esempio cosa vuol dire la borsa low cost cioè comunque sempre brandizzata parliamo di dai 1000 ai 2000 euro sì sì sempre brandizzata però se parliamo del settore del luxury una borsa da 1000 ai 2000 euro è una borsa sì sì se vai su Birkin o Kelly vai su budget con uno zero in più però dal momento in cui tu vai su 1000 ai 2000 vuol dire Louis Vuitton come dicevi prima o Chanel o Louis Vuitton quello è il target che ho voluto importare sulla ruzza luxury bags così si chiama e non fai nulla invece nel mondo dell'apparel vuol dire abbigliamento collabo limited edition sneaker ti spiego ho pensato allo sneaker ho pensato al adesso ci sono mille realtà che lo fanno però diventa troppo dispersivo dal mio settore nel senso che guarda che ti servirebbe uno store immenso perché per ogni sneaker devi avere tutti i numeri per ogni pantalone devi avere tutti i numeri diventa dispersivo per cui voglio importare questa attività solo su borse mentre l'altra solo su kelly birkin e orologi nell'altra farò anche i gioielli però questo è tutto un altro discorso metterò una persona apposta a occuparsi di questo altro tipo gioiello tailor made te lo faccio per te o rivendi cose di altri no no gioiello tennis gioielli custom customizzazioni su collane diamanti è un siccome è un un'attività che è molto richiesta ho deciso di approfondire un pochino il discorso e buttarmi anche su questo perché la metratura ce l'ho il personale ce l'ho per cui proviamo a introdurre anche un altro tipo di attività allora hai detto che oggi 2023 mentre ci stiamo parlando fatturi circa 25 milioni di euro la mia domanda è tu com'eri fisicamente prima? te lo chiedo perché volevo legare al denaro io mi sono sempre chiesto ma se un giorno avrò delle possibilità economiche come dire che mi daranno un'indipendenza estremamente solida e concreta cosa vorrei fare? la prima risposta che mi sono dato è vorrei fare sport ogni giorno oltre che viaggiare ho detto beh lo posso fare già da adesso no? perché il fatto di potermi vedere allo specchio e amarmi cosa che non mi è ancora mai successa ma ci sto lavorando per me è un traguardo molto importante allora io ho molta cura ad oggi del mio fisico quindi mi alleno mi piace vedermi in un certo modo ho uno stile di vita normale ma molto curato cura molto l'alimentazione e questo mi ha permesso di elevare la mia autostima uno è legato all'altro il lavoro è legato anche alla mia immagine e non penso mi ricordo qualche anno fa ti farò vedere poi com'era poco curato con la pancia grasso te l'ho chiesto perché l'ho visto quel contenuto ok e ti cambia la mentalità io ho cambiato prima la mia mente e poi il mio fisico cosa hai cambiato esteticamente di te? esteticamente ho cambiato che ho fatto due trapianti di capelli mi sono cambiato ho fatto due trapianti di capelli faccio qualche punturina di botox mi sono rifatto tutti i denti mi curo molto la mia parte fisica e e basta ma io mi vedo meglio vado oggi sei più felice oggi sono molto sei più sicuro di te molto molto più felice certo ovvio la mia parte lavorativa è legata anche all'immagine per cui è giusto che sia così si si però hai detto le due cose con l'imano però adesso io ero più sulla tua cosa personale cosa ti rende felice fisicamente e hai fatto dei cambiamenti che oggi ti fanno quando ti guardi aumentano aumentano la mia autostima quando mi guardo non sono mai contento perché io sono sempre molto autocritico per cui non mi vedo mai in forma non mi vedo mai bravo non mi vedo mai bello lo dico magari sui social sui canali ma molto molto ironicamente in realtà sono il contrario non mi vedo mai perfetto tua moglie ti preferiva prima o adesso? parlo fisicamente adesso però dice stavo meglio prima lei dice adesso ti preferisco perché so che sei più felice perché lei guarda molto la il mio stato d'animo però stavamo meglio prima quando non avevamo niente questa è la sua opinione a parte il fatto che è vero è ipoket da dire ma non non io glielo dico sempre Marta io spesso mi guardo indietro e ti garantisco è vero avevo sicuramente meno problemi di adesso perché più hai più i problemi si moltiplicano però non puoi dire che stavo meglio sarei veramente ipoket a dire una roba del genere io sto meglio ad oggi e non sono uno attenzione perché io non sono uno che spende non sono uno che se io dovessi avere anche cento volte i soldi che ho oggi non farei più di quello che faccio oggi farei una vita semplicissima e normalissima mi alza la mattina farei una vita come fanno tutti però mi dà sicurezza mi dà serenità il fatto di sapere di poter far fronte a tutto oggi mi sembri centrato come autostima come indipendenza economica nel senso non stai più arrancando stirato a fine del mese no no sono sereno ad oggi sono sereno e concludo l'intervista facendoti quest'ultima domanda ti voglio chiedere come saranno i tuoi prossimi dieci anni cioè nel senso visto che tu sei una persona strategica intelligente e hai usato sempre a cospetto del prossimo puzzle i tasselli precedenti cosa vuoi che la vita ti dia nei prossimi dieci vent'anni allora io ho capito di essere una persona che non può stare ferma assolutamente perché mi uccidi mi uccidi te lo dico ultimamente ho fatto delle vacanze lunghe e sono scappato sono scappato dalla casa perché non ce la faccio più sono tornato in negozio però ho anche lo stimolo ogni cinque anni di dover fare qualcosa di diverso sempre perché mi porta a migliorarmi mi porta ad avere nuovi obiettivi no? ed è sempre stato così se calcolo ad oggi e non è studiato io sono passati cinque anni dall'apertura della mia attività e ho preso altri due negozi proprio perché mi dà stimolo e mi dà l'obiettivo di fare sempre sempre meglio io direi che abbiamo fatto un bellissimo viaggio sei stato aperto sincero senza nessun tipo di muro di filtro mi ha fatto veramente piacere parlare con te sei sei molto molto coinvolgente grazie mille è stato un bel viaggio grazie a te Luca grazie vi ringrazio per essere arrivati fin qua fino alla fine di questo episodio che spero vi abbia restituito stimoli delle belle vibes vi siate identificati medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere per poter andare avanti per poter cadere meglio qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato buona visione grazie a tutti